Indiana Jones esiste, solo che non è americano, ma egiziano e si chiama Zahi Hawass. È un archeologo che da ormai oltre dieci anni è sulle tracce della tomba di Anke Senamon, la sposa di Tutankhamon, amatissima dal faraone bambino, morto a circa vent'anni, e della cui ricchissima tomba si parla in diversi testi storici. In questa ricerca Hawass si è imbattuto nella scoperta di 30 sarcofagi antropoidi in legno perfettamente conservati. In realtà nessuno è riuscito a coniugare studio e interpretazione della tradizione scritta e delle leggende come Hawass. Questa scoperta ci spiegherà moltissimo sulle credenze degli antichi egizi a proposito dell'aldilà, a proposito dei colori, delle scene religiose, sul cosiddetto libro dei morti, che spiega la dottrina degli egiziani di fronte alla morte. Ecco perché per noi è importantissimo. Un tassello importante nel mosaico della comprensione di una delle società più complesse della storia dell'umanità. Grazie.